qua, li mettiamo sull'insalata di finocchi, sì, tutti belli scottati in questo modo, ecco qua, questo qua che è il più grosso lo mettiamo sopra così, poi, è bello che mi ha guardato perché ha letto nel mio pensiero, io la rizio ormai, ha letto nel mio pensiero che non posso ripetere adesso da bucciata perché è un bel gruppo, allora, ci mettiamo sopra, ah ma vanno serviti caldi? Certo, la nostra emulsione, io non ti sopporto più, lui non mi sopporta più, con quello che mi fa passare tutti i giorni, e andiamo a mettere anche il verde del finocchio, ma che meraviglia, spettacolo, un po' di pepe che serve per così, e poi, oddio mio, sei incorrigibile Persegani? Le combini tu, perché poi è ovvio che io ti devo dire quello che è, va bene, abbiamo finito, per fortuna direte voi, lo so, non so, vi capisco d'altronde, e noi ci vediamo domani, questo è ovvio, perché in casa lì ci vanno da tutti i giorni, tre volte al giorno addirittura, per cui siamo come i medicinali, diciamo un giorno, prima e dopo i pasti, tre volte al giorno, prima o dopo, insomma, in ogni casa ci siamo, quindi avrete modo di rivedere, perché ridi, di rivedere altre ricette, ricette che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, magari chi può dirlo, in ogni caso seguiteci e quando parte la sigla preparatevi sempre con carta e penna, perché ci sarà sempre qualcosa da imparare, qualcosa da, tranne le nostre battute, scrivete tutto, e lui ride, io non ho mica capito perché ride, comunque adesso me lo spiegherà, ci vediamo domani, ciao a tutti, ciao! ciao!